Ciao donne, amiche mie, cosa ci facciamo qui? Ci facciamo compagnia? Allora so che è sabato, avrete la famiglia, avrete voglia di fare quello che avete voglia di fare, magari siete anche a loro come me, eh? Cosa dite? Ma, eh, dai, ci dobbiamo fare un po' di auguri. Dobbiamo salutare la nostra cara Simona, eh? Che è qui presente, è venuta giusto per salutarvi, giusto per salutarvi, sapete che martedì ci sarà il grande evento, ad oggi è arrivata, tra alti e bassi questa settimana ma c'è arrivata e siccome ne siete tantissime tutte che vi preoccupate per lei, dicevamo ma vengo a salutare le nostre, tra virgolette, amiche e io allora ho preparato uno stand, ho indossato la nostra camicia, la mia camicia magica, quella che ho tolta dall'armadio che non so quanti anni possa avere e ragazze non vi dico nemmeno il numero di quante ne abbiamo vendute ma bello è che essendo così varia, diciamo, la distribuzione, una volta quando avevo il negozio stavo sempre molto 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 attenta e vi garantisco che difficilmente davo capi doppi a chi poteva abitare nel circondario. Adesso è tutta un'altra cosa perché difficilmente o magari casualmente può succedere, allora lì sareste fiere di trovare un'altra magari con indosso e lo stesso capo a questo punto la stessa camicia. Io cosa ho indossato oggi? Ragazzi per farvi vedere questa camicia con quante cose, a parte il jeans, a parte un bermuda, a parte una gonna tubo, a parte quello che volete, io oggi ho abbinata alla nostra, sono stata al Made in Brescia, c'è ancora qualche disponibilità di questa pantagona in crepe che io trovo fantastica, indosso la 42 e ho detto bene, poi è arrivato, nuova collezione, questo cardigan meraviglioso, guardatelo stupendo, meraviglioso da annudare, poi magari lo metto sulla grucia se ne ho una, diversamente lo vedete indosso a me, è dell'Elisa Landry, pazzesco, io trovo che questo abbinamento sia fantastico. Ora tolgo il cardigan e vi dico anche il prezzo, questa è la nostra stola doppiata in seta che la potete utilizzare da buttare soprattutto, bellissime queste pushette, 30 euro e sono praticamente ignuta con tutti, guardate che belline che sono, quindi adesso vengono le belle giornate, si spera, e preparatevi perché ci saranno 50 gradi quando torniamo subito, anzi ci buttiamo nell'estate e tutti questi capi ragazzi sono fenomenali. Lunedì arriva l'assortimento delle tute, delle gonne che state aspettando, è arrivato questo colore delizioso, stupendo, più vivace di quello dell'altra volta, questo verde pistacchio molto bello, ha 69 euro queste tute e faccio notare che sono delle pantagonne, quindi con un cavallo abbastanza lungo, vedete quindi non sta tutta ma sta più a gonna. Posso liberarmi un attimo di questo che poi ragazze quando vestite così potete prendere questa borsa deliziosa in base a quello che voi poi andate ad abbinare, perché questa ad esempio ha dentro il blu, guardate la meraviglia. Qualora voi decidiate di indossare per dire, non so, la camicia blu e poi o tutto blu o con il sotto bianco o quello che volete, adesso ne prendo una che ho qui, cioè guardate quanto è bello l'idea anche di avere una borsa che tra le altre cose si apre, vedete così, tutta in legno, stupenda, il prezzo è pazzesco perché 40 euro, 49 euro è incredibile con la sua tracollina, vedete che è delizioso anche così, delizioso ragazzi anche se facciamo il classico bianco e blu, infatti io bianca e rosa era la mia che avevo in armaggio, ovviamente gialla e blu non me la sono, voglio dire, fatta perdere perché assolutamente, guardate mettiamo qui, io tolgo il cardigan così avete modo finalmente di vedere la camicia indossata, come sta sul dietro, perché ragazze, sì, ne abbiamo vedute tantissime, ma la vostra Gabriele non ve l'aveva mai indossata, ovviamente è aperta fino qui, quindi potete vedere quanto è bello il davanti e io in questo momento a 249 euro voglio proporvela portata così con questo gioiello per la vita che trovo essere eccezionale, vedete che anche qui un po' richiama il tutto, se vogliamo usare questo colore possiamo usare questo e insomma ragazze fate poi voi il bracciale che indosso, che per altre cose questo è proprio mio, lo abbino a tutti noi i miei bracciali perché mi piace molto, questo costa 30 mi sembra, stupendo in metallo, quindi sempre di effetto ecco, le cose di effetto ragazze sono le cose secondo me più belle, vi avevo detto che arrivavano tantissimi capi di maglieria, ok, a prezzo outlet, questo è della nuova collezione, diciamo che è l'unico pezzo della nuova collezione, ve lo faccio vedere perché guardate un po' sopra che cosa lo possiamo andare ad abbinare, allora facciamo vedere che sono pallini lucenti e non buchi perché come il top della volta scorsa pensavate fosse tutto traforato, lo vedete che è luminoso, guardate è un top bellissimo, sml mi sembra, quindi questo veste una buona 44, arriviamo fino alla 46, nuova collezione 45 euro e il cardigan che ve lo devo, ve lo devo, ve lo devo, ve lo devo dire da qui perché ho tolto il cartellino, scusate un attimo, lo tolto perché l'ho indossato io, ve lo dico da qui 79 euro e 90, sapete che loro usano i 90, i centesimi, posso dirvi 79, facciamo anche prima, delizioso ragazze perché potete metterlo sopra qualsiasi cosa, direi che come taglia sono quattro tagli e quindi lo possiamo abbinare anche per dire su pantaloni che guardate non è una casualità perché loro usano sempre tessuti e li ripetono, diciamo stagione per stagione, questo il pizzo stupendo è finito con questo tessuto di viscosa ma ovviamente io cosa ho fatto? Ho, come si può dire, ravanare, cercare, facciamo così, usiamo un linguaggio consono, quindi ho cercato il calzone nello stesso tessuto che invece quello è prezzo outlet da 65 a 49 euro con elastico in vita, terza, quarta, quinta, quindi 48, 50, 52, 54, si può anche fare l'abbinamento, vedete, con lo stesso cardigan e lo stesso tipo di pantalone però mettiamolo qui, ci sono tanti capi prezzi outlet, in questo caso ve l'ho detto 79,90 il sopra e 45 euro il top, qui è crollato l'abito, sempre prezzo outlet ma adesso ve lo faccio vedere, Simona ci sei? Vuoi venire a salutare le nostre amiche? Gioia mia, dice mamma io le voglio salutare prima di assentarmi e prima di arrivare a casa col fagottino, adesso si emozionano tutte le nostre amiche perché chi manda un pensierino, io non posso, cioè voi dovete vedere le cose che sono arrivate, i pensieri, le bomboniere, i fiocchi di nascita, chi più ne ha più ne metta, ecco è un po' stanchina, la vedete, negli ultimi giorni qua un pochino sì, ecco un pochino stanchina però insomma è qui e cosa vuoi dire alle nostre amiche è che tu le penserai, che le seguirai anche da distanza, questo lo sanno, lo sanno già, va bene, e quindi andrei a fare, portate pazienza sempre, andrei a fare pum, andremo a esplodere, sarete sicuramente informate, ah sì, lei mi dice prima, mamma speriamo di che mi facciano il tutto prima delle due così martedì nel video lo comunichi, adesso vai a sederti Gioia che sei un po', questi tre o quattro giorni qua ci sta arrivando a stento ma insomma ce l'abbiamo fatta, speriamo, perché ha dovuto scendere per qualche controllino poi va tutto bene, poi torna su, torna giù, voi che mi scrivete e mi rassicurate in tutto quindi dai, poi noi abbiamo i nostri angioletti che, le nostre farfallette, i nostri angioletti che ci seguono dall'alto, siamo più preoccupate per mati che lei non è abituata a stare senza la sua mammotta, ma non preoccuparti che ci sono tutte le zie, le nonne, ci siamo tutte c'è i papi, quelli ovvio, i nonni, si sveglieranno, si sveglieranno fuori, si sveglieranno tutti dai amore, salutare le tue amiche, ciao a tutte, buon tutto, e tra le altre cose che cos'è che siamo qui a dire, adesso mi stavo di nuovo dimenticando per la seconda volta ma adesso sono giusto a tempo, buon festa della mamma e scusate voi, viene più avanti perché siamo nel bunker, come augurarvi felice festa della mamma se non con questa mammotta qui vicino cosa dite? Quindi estendo un pensiero anche a chi mamma lo è e lo è adesso con grande difficoltà perché purtroppo la vita a volte ti porta via il bene più prezioso ma noi pensiamo anche a quelle mamme, soprattutto a quelle, mi raccomando tenete duro, noi ci siamo, non ci sono altre parole da dire, quando diciamo buon festa della mamma, buon festa di sentimento, di amore e tutto quello che più si può dire perché non ci sono parole da aggiungere, c'è solo da dire vi vogliamo bene, vero? Lo diciamo? Sì, vi vogliamo bene, vi vogliamo bene, ciao cuore, vai a sederti, vai a riposarti, dai, stavo mettendo i cuoricini a tutte le signorine che ci rispondono, sto mettendo i cuoricini a tutte che ci fanno gli auguri per la Simo, vi devo dire a sincerità che sono un po' tesa, ma voi me lo, lei rilassata, sembra pronta, tranquilla, io sono un po' in fermento ma voi mi rassicurate, mi avete scritto, so che ci siete, sarà un weekend un po' così proprio perché speriamo di arrivare giusto comunque a tempo al programmato, diciamo così, perché in questi giorni è stata un po' durina, comunque siamo qui anche a far vedere che cosa è questa bella meraviglia, quindi la vediamo bianca, gialla, rosa e blu, non l'avevate ancora indossata, vista indossata, ma immagino, i miei clienti di un tempo sì, perché l'avranno nell'armadio e me l'hanno anche vista portare tantissimo, varia la morbidezza a seconda del colore, la rosa è leggermente appena appena più, non dico rigida, è sempre uguale, facciamo vedere che poi è una crepe meravigliosa, guardate le finiture di questa camicia, è stupenda, volevo farvela vedere indossata anche la goccina dietro, vedete, il bianco ha quella venatura di trasparenza che è giusto che ci sia, io indosso il nude, se quasi indossavo il body nero, perché casualmente è andata così oggi, ho deciso l'ultimo o secondo cosa indossare, addirittura lo vedete anche meno, quindi va bene così perché insomma non mostriamo qualche cosa ragazze, dimmi qua. Ora Raffaella chiede, premetto che non è nuova, Kate domanda a Gabriele, se io dico scelgo e compro il capo, tra virgolette, e dico lo prendo, quanti giorni me lo puoi tenere? E dico lo prendo, beh, quanti giorni ti ci vogliono se lo prendi? Noi solitamente abbiamo un'esigenza di magazzino, ok? Che ci porta a smistare velocemente le cose, possiamo farlo uno o due giorni, non di più, uno o due giorni, quindi quando si prendo il capo, uno o due giorni al massimo, perché poi noi completiamo il tutto, si arriva al finale e il giorno stesso noi spediremmo, tenerlo lì, un giorno o due non capisco la domanda se è per quale motivo, se è perché uno vuole aggiungere, vuole fare, però no, cioè l'ordine si completa e poi noi lo spediamo perché è proprio questione anche di spazio, quindi a meno che hai un'esigenza particolare, insomma chiedi e poi noi cerchiamo di valutare anche il perché mi stai facendo questa domanda, però solitamente facciamo così di prassi, di regola, anche il giorno stesso, cioè nel momento che io faccio, definisco e chiudo il tutto e noi il giorno dopo spediamo, quando tu mi mandi la ricevuta, però se c'è un motivo ben preciso, la prassi è quella, non rimane lì più di tanto, poi magari c'è chi dice guarda tieni lì perché in questo momento sto facendo questa cosa, però ovviamente procede a finire tutto il passaggio e poi magari teniamo lì o magari mi dicono tante volte guarda vengo in negozio, io qui ti finiamo finiamo il tutto, completiamo il tutto, andiamo anche al pagamento, dopodiché io passo e vengo a prendermela, anche quella è un'altra prassi, insomma chiedi su whatsapp, dopodiché se poi dici che non è nuova dovrebbe anche saperlo, però diciamo che per tutte e in ogni momento possono esserci esigenze diverse, ok? Quindi per, questo anche in negozio può capitare che magari mi fanno appartare delle cose e poi non vengono più a prendere, quindi se noi appartiamo e teniamo lì sospeso deve essere completato il tutto, perché nemmeno più in negozio tengo cose in sospeso senza aver definito tutto quanto, poi una per motivi di, magari può, di assenza o di qualsiasi cosa può chiedere tutto, anche per una questione di spazio non possiamo tenere fermo tanti giorni gli articoli, ok? Se non sono stata chiara un vocale su whatsapp e ci si trova e ci rispondiamo lì, va bene? Sì sì va benissimo, vedo di essere stata esaudiente. Allora, partiamo bimbe con che cosa? Vi avevo parlato di sconti, vi avevo parlato di prezzi altre, questo abito è stupendo, è della collezione precedente, meraviglioso, in auge assolutamente e nei colori e nelle modellature adesso, guardate la meraviglia di questo abito, lo portate giornalmente con una sneaker, lo portate con un giubbino jeans sopra, lo portate con qualsiasi cosa, lo portate con il nostro giacchino che qui ho messo, ne abbiamo ancora pochissimissimissimi pezzi, quello che fa la manica, tutto quello che non ce l'ha, che è una meraviglia, questo è un raso ma impalpabile, sembra, è morbidissimo, è manupesca, meraviglioso, da, tenetevi bene, 139 euro era il suo prezzo a 89 euro, quindi vedete che c'è come il prezzo outlet, qui abbiamo ML, mi sembra, e XL, arriviamo anche alla taglia grande, quindi chiedete, perché sono là, sono 4, ML e LXXL mi sembra, quindi chiedete e soprattutto, tesori belli, scrivete su Whatsapp, che poi noi vi rispondiamo, ci siamo organizzate, non preoccupatevi, come vi dice Simona, portate pazienza che ci arriveremo e arriveremo a fare tutto, ma tutte le richieste, tutte le domande, gioie belle, su Whatsapp, i numeri li vedete lì, non è nessun problema, organizzatevi, fatelo solo su Whatsapp, perché la nostra vendita avviene solo lì, ok? Mi presentate lo screenshot oppure ci spiegate il capo, ci date le vostre misure, le vostre domande e poi anche capita che dite subito, va bene, grazie, ci penso, metti pure in vendita, ecco, capita anche questo, quindi per l'amor del cielo, poi in diretta, se volete faccio vedere meglio un capo, se volete che facciamo un primo piano, se volete che, se volete che, lo facciamo, questo è un abito meraviglioso, di questi abiti, di queste cose che vi sto facendo vedere, ne abbiamo abbastanza, quindi ragazzi possiamo procedere, questo da 79,90 euro, 69 euro, l'abito questo è maglina, indossato dalla vostra Gabri, guardatelo sul fondo, è delizioso, questa è una taglia terza, quindi 44, 46, 48, 50, 52, ci arriviamo, perché hanno le loro taglie, quindi SM, vediamo, aspetta un attimo, ma beh, parte anche dalla prima, vabbè, io ho preso la terza proprio, quindi la più grande è questa, ma vedete che un bel 48, sicuro, 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 arriva, è aperto davanti e dietro, ma quando voi lo indossate, se proprio volete, gli si dà un puntino e me lo dite che ve lo faccio io direttamente, ma allargandolo di vita, si va anche a sormontare, è una maglina, un jersey di viscosa stupendo, scontato a 69 euro, delizioso il colore, delizioso tutto, questo invece si dovete chiedere velocemente su whatsapp, i nostri palloncini, usciranno neri, usciranno turchese, usciranno un bel verde, molto molto bello, credo che rifacciamo, forse non il bianco perché ne abbiamo ancora un po', ma rifacciamo il blucina, rifacciamo il fucsia, quindi, e il nero soprattutto, quindi chiedeteli, avete visto la vestibilità, magari il prossimo giro bene indosso un altro, in maniera che adesso andiamo a vedere il bianco là sulla, sull'omino, così lo vedete, prezzo 79 euro, bengalina morbidissima, stupenda, questa sì che sembra seta, un velour leggerissimo, dire proprio una seconda pelle, dire proprio una seconda pelle, veramente morbidissimo, e qui lo vedete anche nel bianco perché meraviglioso, poi la andiamo a vederlo indossato, dalla 40 alla 54, ecco queste sono le cose che, mentre nell'altra linea dobbiamo dire prima, seconda, terza, terza, quarta, quinta, qui proprio noi, cos'è la bellezza di questo nostro Medin Brescia, che dalla 40 alla 54 tutto quello che vedete è fatto per taglia, ok? Quindi con anche buonissima vestibilità, dimmi Cate. Oh, a Deborah chiede, Cate posso rivedere il pantalone bianco mostrato prima che uscisse Simona, e c'è solo bianco? Il pantalone bianco prima che uscisse Simona, ma io non ho fatto vedere nessun pantalone bianco prima che uscisse Simona, questo che indosso forse? Può essere, al momento adesso... Non ho ancora indiziato, c'è l'abito e il pantalone bianco, io, quello che c'è è quello che indosso, che è la pantagona, che è in crepe e dovrebbe essere assortita, io adesso qui ho preso qualche taglio, ho preso la mia, indosso la 42, dimmi? C'è nelle giacenze, bisogna andare a vedere. Sì, vabbè, però... Esatto, si saprà le taglie, non lo so, a memoria. Simona, riesci a vedere se ti do il codice alle giacenze del bianco? Sì, però mi stai chiedendo quello con la casacca. Quello con la casacca? Quale casacca? Scusami. Mi stai arrivata a questo momento e mi stai chiedendo quello con la casacca. Ah, forse, ho capito, perché mi sono... Ah, ecco, quello col tuo copri tutto. Scusa, Deborah, ma sembra facile capire, eh? Sì, no, perché anch'io poi non sono, diciamo, non mi preparo mai, quindi in base a quello che vi sto facendo vedere, e cos'era, che vi ho fatto vedere il cardigan, che ho trovato poi questo nello stesso tessuto, e c'è terza, quarta e quinta prezzo. Cos'è che voleva sapere dal pantalone abbinato? Se c'era solo quel colore. Ah, c'è questo colore e questo. Questi due colori. Ovviamente io, il bianco, perché lo vendiamo sempre tantissimo, e questa è una terza, quindi partiamo da un 48, ok? E arriviamo fino a una... con la quinta che ho, 54, ok? Ed è in quel tessuto meraviglioso, che loro usano proprio anche a profilare tutto quello che è i loro capi. Quindi in questo caso, ci siamo chiarite, 49 euro, e il prezzo era più alto, perché costava 65. Piera chiede, ciao Kate, si può vedere gli altri colori del completo che indossa Gabri e il costo? Allora, il completo che indosso io non è un completo, come sempre sono outfit che creo. Questa è la camicia, 59 euro, la pantagona, dicevo, bianca, c'è la pantagona nera, scusate, quindi potete fare il bianco e nero, il giallo e nero, perché? Della camicia che indosso c'è rosa antico, c'è gialla, c'è blu e c'è bianca. Io ho fatto un total look bianco. qui, sopra il nero ovviamente, la potete mettere o bianca o rosa o gialla, ok, lasciamo stare il blu, e non c'è il pienissimo assortimento, ma abbastanza. Quindi queste sono pantagone che arrivano fino al 54, con questa vestiamo fino a una bella, io dico, 56-58. Io indosso la 42, la vedete qui in tutta la sua bellezza, è in crepe, praticamente la crepe è il tessuto di queste giacche, che purtroppo ne abbiamo, sono rimaste due, credo una 44 e una 46, perché chi volesse potrebbe fare anche il completo, così, 89 euro la giacca, 59 euro la gonna, ok? E la gonna pantalone c'era blu, ma credo che ne sia rimasta una sola. Quindi qui proprio, ragazze, sono due tre mesi che le stiamo lavorando, e c'è una taglia 40, che metterei anch'io, eh, mi raccomando. Poi c'è blucina, che è la stessa taglia che indosso, ma le abbiamo assortite, anche qui, ragazze, come potete pensare di non fare così. Ma questa adesso la prendo, perché mi sono dimenticata che ho dentro tantissime maglie da far vedere, perché, ragazze, sono arrivate centinaia di maglie da abbinare, a parte le nostre camicie medie in Brescia, che sono tutte meravigliose, si possono tutte abbinare a tutto, guardate anche con la gonna pantalone. Vi sembra larga? È quella che indosso io. È stupenda, cioè, una volta che voi la mettete indossata, vedete, cioè, è proprio, a me piaceva tanto. L'ho vista nella taglia 54, indossata qui in negozio, da una nostra cliente, ho detto, io, questo completo, lo devo fare. Poi c'è stata quella sposa che l'ha acquistata per fare le foto, io la metto con la ginica qui a lavorare in negozio, quindi la uso sempre, vado a casa, la lavo, non la stiro, più di così, ragazze, davvero, non so cosa posso dirvi. Comunque, 59 euro, chiedete su WhatsApp tutti i colori, io ve li ho già detti, se avete delle domande, fatelo lì. Mi fa piacere che le nostre amiche oggi siano attente e siano numerose. Ero arrivata, ecco, qui, ragazze, questo è un esemplare. Non sono, non, non sono riuscita a lasciare, guardate che sono tutti i prezzi outlet, quindi, se non vedete il video oggi, andate a rivederlo durante il weekend, ragazze, perché qui, ecco, sono cose strepitose. Da 60 euro a 49 euro, guardate questa maglia, ha il pizzo, qui è tutta in viscosa, fibra naturale freschissima, con l'elastichino sul fondo, questa è una prima misura, e già la indosserei io, perché, guardate, ha tutta l'arricciatura qui sulla manica, potete portarla con lo scollo leggermente arrotondato, ma poi gioca di trasparenza. Vedete questa maglia? Io vedo già chi di là me le chiede, perché conosco tutti i vostri gusti. 49 euro questa maglia, vedete, soprattutto fibra naturale, guardate il pizzo che c'è all'interno, e arriva fino a una quarta, quindi taglia, adesso io credo di averla messa qui, la misura più grande, ma dopo andiamo a fare un giro, andiamo a farle vedere, ok? Quindi, sicuramente fino a 52-54 credo che ci arriviamo, ok? Dalla 42-44 che è adesso. E ve la stavo proponendo, magari perché no, portata con un jeans, ma ragazze potete metterla anche sulla pantagonna, potete fare quello che volete, c'è ancora una pantagonna blu se volete fare l'abbilamento, ci sono i nostri pantaloni in bengalina, abbiamo i jeans, abbiamo l'universo, avete presente l'universo, c'è il negozio che rigurgita di capi, quindi potete davvero, davvero, davvero impazzire. Vedetela col jeans, la meraviglia, con un calzone bianco, io l'ho anche abbinato qui, non sono tantissimi, questa è bengalina, pantalone bianco, taglia 44, lo andiamo ad abbinare sotto, ed è una favola, ok? 59 euro e 49 euro la maglia di mi capo. Gaetana chiede se è possibile rivedere questa tuta, perché in due messaggi gli ho già detto che è una tuta, non un abito. Sì, certo. Possiamo farla rivedere. Faccio rivedere chi volesse abbinare, qui ne abbiamo pochi ragazze, taglia 44, 52, 54, non so se i nostri bimbi così o diverso lo rifanno, ma ragazze, qui è da fare. La tuta è qui e adesso arriva, la faccio vedere. È una tuta a tutti gli effetti, col cavallo lungo, e è fatta tipo gonna pantalone, ma io l'ho indossata, ce l'ho nell'armadio, tantissime di voi l'hanno acquistata, questo va all'interno, quando l'avete indosso, praticamente è una cosa più o meno così, ok? Sotto è larga, è fatta come la pantagona che indosso, 69 euro, costava 99, e la distribuiamo a 69. È arrivato il colore nuovo, che non è il verde olio che avevamo un tempo. Beige non la rifanno più, perché non hanno più la bengalina beige, quindi rimane una 40, una 48, poi tutti gli altri colori, nero, blu, verde chiaro e verde bottiglia, sono riassortibili. Credo che comunque puntino di più sul nero e il blu. Credo di essere stata chiara. Che dire, devo stare attenta perché questi capi continuano a cadere. Guardate questa maglia, se non è meravigliosa. Allora, costava 69,90 euro, 70 euro a 59. Che cos'è? Guardate, questo è il dietro, quindi già questa prima misura ha un'ampiezza che veste già un 44,46, sicuro, sicuro. Io credo che qui nel 50, 52 ci arriviamo, però ragazze, sono appena arrivate, non ricordo più la vestibilità. Questo è dritto. Quando voi poi la indossate, vi facciamo vedere, utilizzate il suo fiocco, la arricciate, ma la bellezza di questi colori, ragazzi. Il tessuto è identico al pantalone che vi ho detto prima. Ecco perché lo riprendo. Lo userò un po' di volte, perché chi vuole può fare anche un abbinamento così. Lo vedete? È bella? 59 euro, perfetto. Quindi, vogliamo abbinarla e metterla con il nostro calzone? E ne prendiamo uno giallo? Guardate ragazze, mettiamola col giallo. Andiamo a prendere il Tyler Fuchsia, la mettiamo col Fuchsia, andiamo a prendere il pantalone verde, il pantalone coccio, il pantalone per l'inca, il pantalone blu, tutto quello che volete. Tra le altre cose, aspettate che vado a cercarlo, ecco, sono arrivati dalla 42 alla 52, ma comunque fino alla 54, il pantalone palazzo in jersey di viscosa, pantalone palazzo, lo stesso dei nostri top, ragazzi, e dei nostri completi poi made in Brescia, che stanno sfornando, mi hanno detto 1200 capi, quindi vi farò impazzire. Intanto facciamolo con questi. Abbiamo qui di tutto, di ogni e di più. Potete abbinarlo anche così, ok, volendo. Io sono per il tono su tono, però ci arriviamo. Quindi, anche con il nostro pantalone made in Brescia, a sigaretta, fate un completo così, ed è delizioso. Il prezzo, ve l'ho detto, 59 euro. È inutile farvi rivedere la nostra casacca, meravigliosa, abbinata con le caramelline, che ci potete mettere tutti i colori dell'universo che volete. Guardate ragazze, l'ho indossata nel video dell'altro giorno, l'abbiamo riassortita, l'abbiamo in quattro colori, qui ne vedete due, di là ce ne sono altri due. Chiedete su WhatsApp, a 69 euro, è una delizia. Questa invece è una casacca, sempre prezzo outlet, molto molto bella, e abbiamo, questa è una quarta, è la misura più grande, l'ho presa per vedere, che vestiamo una 48, non oltre. Quindi, molto molto bella, è sempre un tessuto, il loro particolare, ragazze, da 60 euro, 39 euro. Tenetevi bene. E che cos'ha? Questo incrocio, questi lacetti sul davanti, e queste maniche, così, volendo, potete prendere questa, e portarla con la pantagonna che indosso. Giocherà di trasparenza qui, ragazze, 39 euro. Oggi prepariamoci, che quello WhatsApp, non smetterà mai. Dimmi, Gioia. Gaetana chiede, ci sono vestiti modello anfora? Modello anfora, tu parli del tubino modello anfora, ce ne proprio pochissimi, non credo proprio. Allora, se lo vuoi corto, perché poi, ampi da portare sul, diciamo così, da allargare, già la tuta, quella che ti ho fatto vedere prima, anfora perché, me lo chiedete, perché sicuramente avete una misura più, diciamo, morbidosa sotto che sopra, solitamente. Quindi, più che anfora, anfora lineari, non ne sta facendo nessun fornitore, devo dire la sincera verità. Ne ho avuti alcuni io, a 30 euro sono finiti. Però, diciamo, di abiti puntati in vita, e morbidi sotto, ce ne sono parecchi. Scrivi su WhatsApp, e ti faremo, ti gireremo, tutte le foto possibili, inimmaginabili. Allora, la camicia, 39 euro, questo, ho assortito, qualche calcione sfuso, perché, anche questo, sta benissimo sotto la camicia, che indosso. Ha 59 euro, il nostro pantalone in crepe. Abbiamo ancora una 40, e una 46 di giacca, a chi volesse fare l'abbinamento, perché è delizioso. Chi volesse fare l'abbinamento, 89 euro, e 59 euro, il calzone. E poi, ragazze, arriviamo a dire, che potete fare qualsiasi cosa. Guardate questa maglia. Allora, seconda, terza e quarta. Chiamiamo la maglia. Bisogna dire che, per metà, è maglieria. Vedete, è proprio maglia. La vedete, è maglia filata. Guardate, se riesce a vedere la vicino, con quella spennellatura d'argento. Questa la mettete col blu. E poi, come finisce sotto? Finisce con tutto questo stato, di voal, diciamo così, in discosa, che va, questo è il dietro, questo è il davanti, qui abbiamo seconda, terza, quarta, 42, 44, 46, 48. Lo andiamo ad abbinare qui. Facciamo un tocco di magia. Avevo voglia di diversificare, con qualche maglia in più, e io so che anche loro sono imbattibili. Vedete, possiamo fare un abbinamento così, ragazze, ed è uno schianto. Volete prenderla col calzone blu? Fatelo. Volete prenderla col bianco? Fatelo. Volete metterci il coccio? Fatelo. Prezzo Outlet, da 60 euro a 49 euro. Quindi, una delizia. Poi, anche la mezza manichina. Dimmi, capo. Patrizia chiede, il pantalone palazzo in jersey, c'è solo blu? Blu e nero. Dalla taglia piccola, alla taglia grande, e, non vi ho detto il prezzo forse, 49 euro. Blu e nero. Poi arriveranno quelli del nostro Made in Brescia, con quella lavorazione particolare a lato, ma nel frattempo di questi ne avevamo estrema necessità, sono sempre Made in Brescia anche questi, perché, tante di voi, e il peso, e anche il tessuto, me lo sta chiedendo, e anche il modello a palazzo. Poi arrivo, ve lo faccio vedere. In questo caso, l'altra maglia, guardate la meraviglia, sapete che loro si ripetono anche nelle modellature, praticamente è tutta in retina, con questa finitura in paillette, guardate la meraviglia tutta doppiata, anche questa costava 60 euro scontata a 49, potete mettere, per dire il calzone, che vi ho appena fatto vedere, a palazzo, ad esempio, se lo volete blu, vedete, potete mettere sulla gonna pantalone, che indosso io, potete mettere sulla gonna a tubino, che le riassortiamo tutte, questa è blu, ma c'è nera e beige, e poi potete mettere la col calzone bianco morbido, che ho fatto vedere prima, e poi arriveranno tantissime cose, mettetela con un jeans, mettetela con quello che volete. Adesso io arrivo, a farvi vedere, non abbiamo tanto assortimento dei nostri taillers, ma li stanno ritagliando, e arriveranno anche tanti, arriveranno, li tagliano i nuovi in nove colori, perché questi taillers sono incredibilmente belli. Questo è un 48, pantalone blu indaco, che non è il blu scuro, ma è quello più chiaro, e la sua giacca, 99 e 59. Anche qui, io ho messo questo, questo è bellissimo, volevo farvelo vedere, vediamo se riesco, perché qui manca il laccio, ecco, così, praticamente, è una specie di poncio, vedete, che se lo apriamo, guardate, adesso fermati un attimo qui, così facciamo vedere l'apertura, aperto, vedete che è praticamente, tutto aperto, quello che delimita questa larghezza, quindi qui abbiamo SML, è questo punto qui, quindi fin qui, ci possono arrivare in tante, ok, quindi si può dire quasi senza misura, poi, lo arricciate, e qui vedete che ha la sua, il suo laccio dorato, praticamente, lo andate a portare, lo portate a ristretto, vedete, quindi, bellissimo, volete portarlo sotto il tailleur, portatelo sotto il tailleur, volete portarlo con un calzone beige, portatelo col beige, volete portarlo col bianco, col blu, cioè, questo è un jolly, che potete mettere, quasi anche come copricostume, è una delizia, costava, ragazze, 75 euro, guardate le finiture, la vedete, il dietro, una meraviglia, scontato a 59 euro, prezzo outlet, e quindi, qui, io adesso ve l'ho fatto vedere col tailleur, ma potete portarlo con qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, cosa, poi facciamo un giro, perché di queste maglie, veramente, ho fatto uno scarico pazzesco, ma servivano, innanzitutto, perché a prezzo outlet, da 60 euro, a 49 euro, è della malandrina, ma parte dalla taglia piccola, quindi parte una terza, quindi questa è 46, vedete, 46, 48, 50, 52, 54, ok, perché abbiamo le taglie, questa è come quell'altra bianca, vedete che ha il fiore, ha tutti questi, diciamo, spunte argentate, e sotto, parte la georgette, dietro è lineare, ma adesso dico io, ragazze, capite che, i prezzi sono pazzeschi, è bellissima, bellissima, portata su tutti i colori, bellissima portata sul blu, bellissima portata sul bianco, bellissima portata sul jeans, è incredibile anche come sta indosso, con la manichina giovane, bella asciutta, non posso non farvi vedere, gli ultimi pezzi, dei nostri abiti in pizzo, perché ragazze, li stiamo stra, stra, stra lavorando, c'è chi l'ha preso per andare in crociera, c'è chi l'ha preso per andare a nozze, c'è chi l'ha preso per uscire, a bere un cocktail, c'è chi l'ha preso perché ha detto, a me piace lo porto in ufficio, quindi è un abito, bello, scollato, giusto, femminile, che arriva filo ginocchio, perché la lunghezza è questa, tendenzialmente si tiene la fodera sotto, leggermente più cortina, così gioca un po' di trasparenza sul fondo, vedete, che è quello che deve esserci, altrimenti sarebbe, risulterebbe anche un po' pesantino, deve diciamo riportare, a richiamare quello che è la manica, che è veramente deliziosa e meravigliosa, allora, 89 euro questo, questo abito, quindi si può dire a ragazze che sia regalato, prendiamo la pantagonna, esattamente quella che indossa, semplicemente una taglia in più, una 44, e qui abbiamo le taglie, quindi chiedetele, 59 euro la vedete indossata a me, potrei abbinare, perché no, volendo, ma, tutto, cioè ragazze, prendiamo quella che vi ho appena fatto vedere, abbiniamola sopra, e che dire, non è una meraviglia, possiamo fare mille abbinamenti, con la maglia, con la camicia, con tutto, quindi ora, ve la faccio vedere, portata con questa, che cos'è questa? è una casacca, tagliata, vedete, anche qui, rotonda, che determina la larghezza, e sono queste cuciture, che alla fine, se una la volesse più grande, si può anche scucire, e cucirla più in là, quindi questa, vedete che è la misura, guardate come è fatta, con il pizzettino, con la Georgette, giustamente, non sono tanti capi, scontato a 59, bene, vedete com'è, tutta Georgette, è ovvio che se poi dite, Gabri, prendo questa, made in Brescia, la buttiamo sopra, costa 69 euro, è bellissima, la potete mettere su tutti i colori, sapete che queste, sono i nostri jolly, sono le nostre, le nostre opere d'arte, giusto, visto che, ci serviva anche qualcosa in alternativa, io vi sto facendo vedere, delle alternative, che potete girare, praticamente, su tutto, anche sulla gonna, tubino, che questa la andiamo a riassortire, lunedì, le abbiamo già fatte appartare, a 49 euro, volete metterci questa, fatelo, volete mettere quella precedente, blu, fatelo, volete mettere quella bianca, insomma ragazzi, fate quello che volete, in base ai gusti, noi vi facciamo su whatsapp, cic cic cic, tutte le foto, questa veste tantissimo, la 50, l'abbiamo venduta, fino alla taglia 54, quindi tranquille, per chi ha un 44, bisogna dare minimo, bisogna dare la 42, non so se sono partiti, dalla 40 questa volta, però ragazzi, facciamo un total look blu, abbiamo voglia di fare, un pantalone in jersey, e lo andiamo ad abbinare, sotto la nostra camicia, come quella che indosso, la vedete, il pantalone, dalla 42, alla 50, ma arriviamo alla 54, tranquillamente, 49 euro, e la nostra camicina, la vedete indossata a me, 59 euro, in quella crete fantastica, che voi la lavate adesso, e tra due minuti, è asciutta, e la rimettete, giusto? Hai bisogno di me? No, c'è bisogno. Bene, allora, questo è un altro jeans, qualcosa abbiamo ancora, voi poi chiedete, una taglia 48, abbiamo in casa, ancora qualche misurina, con un'altra maglia camicia, perché noi le definiamo maglie, ma sono maglie e camicia, scontata da 60 a 49 euro, guardate la meraviglia, ha praticamente, lei è in Giorgette, poi ha il bordino in viscosa, la fascia in fondo in viscosa, vedete, e poi tutta Giorgette, questa è una taglia terza, quindi 46, 48, 50, 52, forse anche 54, poi non arrabbiatevi, se alla fine magari non c'è la, non ricordo bene tutte le misure che abbiamo, non posso sapere adesso, però ci sono, quindi, scusate, dalla 46, in su, portatela col jeans, bene, volete portarla col calzone, bianco, il crepe, che di questi abbiamo qualcosa, fate l'abbinamento così, ed è delizioso, la crepe è il tessuto, di questa pantagonna, che ho voluto mostrarvi, perché così sapete, e soprattutto, la vedete indossata, questo è l'ultimo abito rimasto, quindi l'ho inserito, devo dire che veste fino a una 46, non di più, perché il plissè, arriva, ma sotto ha il tubino, sempre in jersey, un attimino più, sostenuto, quindi 49 euro, massimo 48, devo dire, Kate, giusto? Massimo, anche perché il giro maniche è un po' asciutto, quindi, io direi 46, e la facciamo franca, che dite ragazzi, è 49 euro, è delizioso anche questo, il colore, l'ultima tuta rimasta, ma proprio l'ultima, questa, di gran classe, tutta in maglina, adesso ve la infilo così, la vedete, stupenda e meravigliosa, guardate, con il drappeggio alato, ho avuto mamme della sposa, ho avuto invitati, ho avuto diciottesimi, tutte che hanno preso questi articoli, senza, diciamo, nessun problema di abbinamento, giubbino jeans, giacchina, giacchino in tulle, cioè, stole, ragazze, è incredibilmente bella, a soli 99 euro, guardatela, la vestibilità è deliziosa, deliziosa, e arriviamo a qualcosa di delizioso, che io dico, è una meraviglia, calzone nero, a palazzo, guardate anche la lunghezza, non è da accorciare, 49 euro, ed è fantastico, in questo caso, io ho trovato, queste maglie, che sono, eccezionali, da 70 euro, scontata, a 59, guardate com'è, adesso ve la faccio vedere, è una maglia, praticamente, sotto, è una canotta, una canotta, rendetevi conto, in jersey di viscosa, ok, tutta sfumata, come il sopra, vedete, che va a finire, in una paillette, meravigliosa, e sopra, cioè, fa questa forma, di cabana, manica, la vedete com'è, cioè, e la fantasia, cosa vogliamo dire, questa è una malandrina, ma di quelle, senza taglia, praticamente, come la nostra, camicia, made in brescia, perché, modellate, un attimino, la canotta, abbiamo tutte le taglie, questa è una terza, c'è terza, quarta, quinta, quindi, andiamo su, guardate la meraviglia, di come finisce, questa, questa maglia, quindi, per questo pezzo, avete la, la paillette, e per in sopra, questa sfumatura, vogliamo, metterla col calzone, a palazzo, fatelo, volete mettere, sotto un tire, fatelo, questa manica, qui, non mi chiede, nessun problema, perché, quando mettete la giacca, tirate su così, e mettete la vostra giacca, e non avete, nessun problema, trovo cose meravigliose, da 70 euro, a 59 euro, pantalone 49, dimmi, allora, ho Barbara, che ci tiene, che ti dico una cosa, siccome mia, dice, dia Gabri, che vestito plissé, le hai dato anche a me, che sono un bel peso, perché, lei veste come, lì ci siamo, non scontrate, ma confrontate, in caso di dirlo, perché, mi aveva fatto vedere, e allora eri tu Barbara, alle tue misure, ho detto, l'unica cosa, che devi sapere, è questa, ma ce n'era uno, in particolare, dei due o tre, che avevamo, che mi sembrava, avesse una fodera, leggermente meno elasticizzata, esattamente, e secondo me è questa, può essere quello, per vederlo, quindi io non posso, pensare, di arrivare alla taglia, come la tua qui, quindi qui si arriva, a un 46 capi, su questo, esatto, perché è questione di interno, quindi Barbara, ti ringrazio, vedi, questo è, un esempio, di quello, che dico sempre, voi chiedete, ok, le misure parlano, però poi, vi dovete dire, io vesto così, cioè, a me, questa camicia, mandala pure una taglia in meno, che anche se mi punta sul seno, io lo porto aperto, e lo voglio così, ok, quel pantalone, anche se mi fascia la gamba, tu mandamelo, perché io voglio le cose, inciuciate, ok, quindi noi poi, ti diciamo, potrebbe andarti questa misura, ma, ci dovete dire, come amate vestire, per dire, sono fastidiosa, non voglio che mi segni nulla, dammi una paglia in più, noi, seguiamo, il vostro consiglio, quindi, dateci una dritta, soprattutto, di come siete abituati, a portare le cose, eh, questo, devo dire ragazze, se c'è, due re, un reso al mese, dai, parliamo di queste cose, eh, quindi, siamo proprio specialisti, bisogna dirlo, eh, quindi, anche per evitare, che si siupino i capi, cioè, non siamo quella gente, che van, 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 tornano giù i magazzini, non sanno cosa, insomma, noi siamo qui, che spazioliamo, cioè, ragazze, quando diciamo, che seguiamo il capo, dall'inizio alla fine, lo facciamo, ecco, quindi, ci teniamo a, a fare le cose giuste, ci teniamo anche a non avere resi, lo devo anche dire, perché, tutto si fa, ci mancherebbe altro, ma, giriamola al contrario, allora, faccio di tutto, per cercare, che quando vi arriva il capo, sia quello, poi, è ovvio, che voi dovete conoscere il vostro gusto, se guardate questa camicia, indosso a me, vi piace come l'abito palloncino, ma sapete, che poi, a voi, il palloncino non piace, la camicia larga in fondo, non piace, è inutile che mi dite Gabri, mandamela, se siete quelle che vogliono vestire inciucciate, se siete quelle che sapete, di non portare per dire, la camicia lunga dietro, cioè, io le indosso apposta le cose, perché così le vedete, non è che le trasformo, sono come le vedete indosso a me, capite, certo, se poi la portiamo col tacco, una cosa è più slanciata, se questa la tengo, per dire, la indosso con, una, sneaker, sembra un attimino più bassina, ma è normale, però, fa lo sportivo, e fa magari, il più dinamico, il più femminile, questo sta a voi, indicarci, che tipo di persona siete, a questo punto, questa ve l'ho mostrata, il prezzo ve l'ho anche detto, vi mostro questa, perché è deliziosa, pensate che non l'avevo nemmeno avuta in stagione, perché erano state programmate, per passare solo, e non all'ingrosso, solo nei loro negozi, quindi ragazze, scontata da 70 euro a 59, guardate la meraviglia, di questa maglia, praticamente, finisce con la paillette, in fondo, sotto, ha la canotta, vedete, ingersi, e sopra, questa specie di, cappa mantella, quindi, io questa, la vedo tantissimo, con il calzone, a palazzo, sì, anche con quello, anche se con quello, ho un'altra cosa, c'è Kate, che mi sta indicando questi, non devi dirlo, sì, come no, che sono i nostri calzoni, ma a casa sono rimasti solo questi, non credo che ne abbiamo più, però, adesso vado a fare un completo, però ci sono, morbidoso, aspetta lì, non è questa, perché io sono pignola, non è questa, perché è un altro tipo di paillette, ma visto che mi hai dato il lancio, mi segui un secondino, come se non avessi un niente da fare, spendo sabato, ma per le nostre amiche, questo e l'altro, fa finire che non riuscirò più a fare la carrellata, ma questa qui la faccio, perché, tante di voi avete anche questo nell'armadio, ve lo dico, quindi, questo è una 54, arriva una 56, 69 euro, e questo, lo potete avere anche nell'armadio, questo, è, lo portiamo sia io, lo portiamo Simona, lo vendo da sempre, di questa linea, da sempre, io adesso vi faccio vedere, questa è una media, c'è la L, e c'è la XL, io vi dico che, c'è la L, perfetto, io vi dico che, non, non lo si vende a taglia, che determina la taglia, che cos'è, praticamente, è questa cuciturina qui, la vedete, che determina, se volete, l'ampiezza del fianco, questa è una misura grande per me, ma, ve la faccio vedere indossata, perché non è bella, è di più, allora, non guardate più il sotto, eh amiche, perché tra un po' sono, ok, vedete il lato, se una ha una 58, e dice, ma io la voglio, poco importa, io questa cucitura qui, la porto qui, e la faccio diventare così, quindi, è taglia, per me, unica, perché sta bene, portata con la spalla così, non è la mia taglia, ma vedete come sta bene, e soprattutto, qui ti volevo carte, ah, vedi che stai già puntando, guarda, è o non è lo stesso? Dai, piccola, è certo, ovvio, ah, certo, allora, chi ha questo nell'armadio, chi non ce l'ha, lo prende, ma sono le ultime 54, e basta, non ne abbiamo più, fa, questo è un completo, è il pantalone, è a trombetta, mette l'abbinamento così, e di che cosa parliamo? parliamo di un completo, che quando lo mettete in dosso, vi sentite una silhouette, una silhouette, quindi adesso lo tolgo, eh, vi faccio vedere i tre articoli, con queste finiture, con queste paillette, andiamo di non spogliarmi, sto tirando su anche la camicia, sì, solo la vostra Gabby può fare queste cose, va bene così, diciamo il prezzo di questo, che è una meraviglia, allora, il prezzo, andiamo a cercarlo, tutta finita in raso, meravigliosa, da 75, 59 euro prezzo outlet, ciapale, quindi, questo, poi, questo, che invece, non ha il bordo in paillette, ma è pur sempre, un, chiamiamoli kimono, chiamiamoli quelli che volete, eh, stupendo, calzone bianco, calzone fucsia, che ce l'abbiamo qui dietro, quello del nostro pantalone, e del nostro tailleur, che è una delizia, ok, bianco bellissimo, nero a palazzo bellissimo, prezzo, 59 euro, e, l'altro modello ancora, prendiamo la XL, cosa ha questa? Questa è la camicia, ma tu non lo sapevi, non ti aspettavi tutte queste cose, Cate, hai dato il lancio con sto coso, volevo prepararlo nello stand prima, e poi ho scelto per altri colori, ma mi hai portata qui, allora, qui appena appena esce, il puntino di spalina, ma poco, poco, sotto la Giorgette, scende con la punta, guardate come è fatta questa casacca, è della malandrina, e abbiamo, questa è la XL, quindi è la più grande, della malandrina, questa la dobbiamo misurare, perché secondo me, sì, arriviamo a una 52, sicuro, perché insomma, XL malandrina deve per forza, e anche questa, se avete acquistato questo pantalone, la fate a completo, cosa vi devo dire? Mi ricordi se è 69 il pantalone, con le paia schiacciate? Sì, 69, avevo un attimo di, sì, e ragazzi, li abbiamo venduti più adesso, che all'inizio stagione, guardate la misura, cioè, ha l'elastico in vita, ed è tutto elastico sotto, arriva anche una 56, ci mettete sopra, qualsiasi casacca vogliate, che abbia la paillette, o che non ce l'abbia, non è un problema, ok? Sotto i completi là, che vi ho fatto vedere, potete mettere questo, potete mettere il palazzo, o potete mettere questo, che è quello a plissé, ok? Quindi, potete fare quello che volete, e arrivate a quella misura, dimmi quello. Wanda scrive, Gabri, il tuo negozio è il paese delle meraviglie. Sì, lo so, anche perché ragazze, non so più dove mettere il posto, abbiamo messo le caramelline lì, per fare spazio a uno stampino di maglieria. Posso girarmi un secondo? sì, continuo a stringere, 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 riempire, stringere, riempire, perché ragazze, io stessa voglio avere il tutto, il bello, il di più, dopo facciamo un giro ancora, sulle, sui manichini, e vediamo di fare anche la svetta. Questo ragazze, io l'ho avuto, ce l'ho nel mio armadio, venduto sempre a prezzo pieno, 105 euro, e ve lo ricorderete, quindi prezzo outlet, e qui non si sgarra, 89 euro, questo abito stupendo. Seconda, terza, quindi, vestibilità, 40, 42, 44, è elasticizzato in vita, può arrivare anche una 46 cat, sotto a il, praticamente, l'abito a tubino, ok, e sopra, tutta questa, tu non te lo ricordavi, se ce l'hai tu questo? esatto, con l'incrocio, bellissimo, io ho insolito una sera, in questo abito, un sandalo, cioè, che dire, una meraviglia, volete, siete quelle che dicono, sì, ma, ni, ne, io, qui, là, le gambe, bene, metteteci sotto il pantalone palazzo, e lo fate diventare una tuta, che dite, prezzo, da 105, a 89, euro, chiaro sto fatto, adesso andiamo, qui ne abbiamo due, però, nel senso, ml, non è malandrina, lo preciso, quindi qui non arriviamo grande, grande, però, da 70 euro, a 59 euro, guardate questa maglia, 44, 46, 48, non oltre, guardate la lavorazione di questa maglia, fantastica, guardate com'è finita sul fondo, con il pezzo di manica, che è una delizia, ma ne abbiamo tante, anche per il nostro morbidoso, e non preoccupatevi, in questo caso, l'abbiniamo, con, credo, l'ultimo dei nostri taillers, a completo, in questo colore, poi arriva comunque, di nuovo, sempre nel turchese, quindi, 59 euro, lo stanno facendo, io, qui, ve lo, ve l'ho proposto, solo col pantalone sfuso, e ho in mano una 48, poi ho il completo, taglia 54, ok, la maglia, price, ve l'ho già detto, credo, comunque, da 70 euro a 59, ed è deliziosa, volete metterla col bianco, mettetela col bianco, tant'è, guardate qui, che ve l'ho abbinata anche alla gonna in tulle, avete voglia di metterla con la gonna in tulle, mettetela con la gonna in tulle, e fate un altro completo, la gonna in tulle è una di quelle che arriva alla 54, questa no, ma ne abbiamo mille altre, e tra un po' le vedrete, la gonna 30 euro, ti ricordi cosa viene la borsetta secchiellino, se è 39 o 40, quella ramata, fatta a borsellino, quella là, quella? fatta a ramata, quella ramata viene a 40 euro, 40 ecco, per Marina, dopo te le inquadro, Marina ti mando la foto direttamente sul cello, c'è argento e c'è oro rosato, questa è la nostra tuta ragazze, che non so, sì, ve l'avevo indossata, sì, questa sì, l'avevo indossata, quindi, è un 44, 42, 44, 46, 48, le ho riassortite l'altro giorno, lunedì le posso riassortire, sono un'adilizia, in bengalina, quello che ha, che costa 30 euro a meno di quella che avevo venduto in precedenza, perché un altro fornitore, che ha avuto la possibilità di farmi questi prezzi, quindi, ragazza, è 69 euro questa tuta, fatela, perché ragazza, è fantastica, poi, la camicia che indosso, questo è l'altro colore, delizioso, qualora voi faceste anche il bianco e il giallo, perché è qui da vedere, infatti Rosa scrive, mi puoi far vedere i vestitini giallo che hai dietro? non sono i vestitini, è esattamente quella che indosso, che forse ho dimenticato di dire, che parte, la 40 è finita bianca, non c'è più, 42, 54, ok, perché ricordo che non c'è più nel bianco, noi abbiamo là i triploni, ma la 40 è finita, quindi, ragazze, stupenda come quella che indosso, la vedete, perché, vederla indosso è tutta un'altra cosa, e vi dirò di più, ce l'ho da tanti anni, e rimane invariato il tessuto, non la stirate, io stasera arrivo a casa, prendo questi due, compreso il body intimo, color nude, che indosso sotto, le butto in lavatrice, le metto sulla gruccia, domani mattina profumati, posso già scegliere di indossarli, questa, è la meraviglia, tagliare, uno dei pochi, poi magari vi dico le taglie, ma ve le diciamo su WhatsApp è meglio, ma pochi, le abbiamo qua tutti noi, questa è una taglia 44, chi volesse fare l'abbinamento, questo giallo è andato a ruba, guardate, vedete indossato qua anche allo spezzato, con la camicia made in brescia, la giacca, il pantalone sotto, vedete che poi potete fare tutti gli spezzati, perché i colori stanno benissimo, 59 euro la camicia con le code, chiamatela così, così fate prima, 59 euro, e 99 euro la giacca, qui ero al dirvi, sempre della malandrina, ma partono e dalle taglie basse, andando così su, ma, questa no, al giro manica, quindi rispetto alle taglie, stiamo parlando di una taglia 52, 54, comoda, 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 ragazze, guardate questa maglia, guardate, la, è sempre in discosa, fibre naturali, guardate il pizzo, lo vedete, lavorato, sulla stessa fantasia, e cosa vogliamo fare ragazze, prendiamola, portiamola col pantalone a palazzo, scontato a 49 euro, che richiama proprio il suo colore, lo vedete, questa è una taglia 54, eh ragazze, bene, poi, questo pantalone lo lasciamo qui, perché va bene ancora per altre maglie, vogliamo fare l'abbinamento, con l'ultimo tailleur, taglia 54, e facciamo così, e facciamo così, poi va bene col blu, va bene anche col tailleur arancio, però la giacca è rimasta solo una 44, non siamo neanche riusciti a distribuirli, ma li ritagliano, quindi, forse no, forse l'arancio ha la bingalina che viene a mancare, esatto, vero? ok, comunque, vi ho detto il prezzo, ve lo ridico, 49 euro ragazzi, tutti i prezzi Outlet da impazzire, impazzire, e questo? Cosa vogliamo dire? No, perché ragazze, queste sono quelle casacche di nuovo poncio, che hanno la cucitura solo lateralmente, quindi, vi dico subito, terza, quarta e quinta malandrina, 48, 50, 52, 54, ma la metterei anch'io, perché se non ha la manica, è come mettere un cerchio tagliato, e indossato, quindi lo portiamo anche noi, noi, diciamo, 42, 44, vogliamo farlo col calzone così sotto? Fatelo, vogliamo farlo col bianco? Fatelo, vogliamo farlo col calzone arancione? Fatelo, potete fare tutto quello che volete, e il prezzo da 75 a 59 euro, ovviamente, queste canotte, e stiamo aspettando ancora il turchese, ma io ci rinuncio a questo punto, che se lo perdono, perdonami, arriva, lo sai, e anche Roberta, arriva, proviamo, vediamo, ma tutti i fornitori hanno problemi a riassortire le cose velocemente, perché sono problemi chi sta producendo, chi cuce, capite, non chi taglia, chi cuce, quindi, soffermiamoci un attimo ragazzi, avete voglia di un abito? Le nostre donne che hanno voglia dell'abito lineare, dritto, lo vogliamo vedere, lo facciamo vedere sotto, questo è un abito, non avete niente di scollato qui, e non preoccupatevi, questo è l'abito sotto, che è proprio abito, abito, lo vedete, in un jersey pieno, corposo, stupendo e meraviglioso, dove non segna nulla, praticamente avrete, la testa che esce qui, lo spallino che esce qui, qui mi raccomando non esce il braccio, il braccio esce da qui sotto, quindi cos'è che avrete? Avrete solo il pezzettino di spalla, ma la vostra manica esce, il braccio esce da qui, quindi lo avete tutto coperto, ok? E' una delizia, mettete il body di Gabri, questo, color nude, 43 euro, quindi andrà a pareggiarsi, sullo spallino, ragazze, questo abito costava, 109 euro, scontato, prezzo outre, a 89 euro, e la lunghezza, arriva sotto il ginocchio, taglia, terza, che secondo me, vi dico anche che cos'è questa, è sicuramente una, 48,50, perché se il sotto sta un po' inciucciato, è meglio quindi dire anche 50, per arrivare a una 52, una 54, ok? Che li abbiamo? Prezzo, 89 euro, costava 109, quest'altro delizioso, sono riassortibili, ce ne sono ancora fate in fretta, in diretta, il nuovo sole, ciao Ale, cosa fai tu di sabato in diretta, quindi, questo è un altro abito, in Giorgette, sto parlando per le nostre morbidose, terza, quarta e quinta, malandrina, da 109 euro, 89 euro, guardate la fantasia meravigliosa, qui ha il tulle, vedete, dietro la goccia, volete un abito da prendere, da lavare, non stirare, sentirvi belle sempre, con un giubbino jeans, con la giacca, del nostro Made in Brescia, sopra, e, lì è tutto, ragazze, potete fare tutto quello che volete, tutto quello che volete, prendete la giacca, l'abbinate sopra, e avete già, un abbinamento stupendo, io vi faccio vedere, quello che ha a prezzo alto, è giusto per farvi star bene, come, questo pantalone a 49 euro, che poi il nostro Ale, ce lo consegnerà, in fantasia, sta arrivando una fantasia, ragazze, con il top a incrocio, che neanche ve lo sto a dire, perché sarà fuori di testa, ma non ve lo dico, perché non so quando arriva, se vi dico che hanno tagliato, 1500 capi, e quindi, saprete quante cose devono arrivare, questo è il pantalone, che vestiamo fino alla 54, in crepe, e vi faccio vedere, per dire, un'altra casacca, giusto per le morbidose, un attimino lunga, un attimino, particolare, con la manica, vedete, svasata, con lo spacco, con il gioco, qui di, in, in tulle, scontata, da 80 euro, a 65, ma, possiamo prenderla, e come vi dicevo prima, prendere, la nostra gonna, diciamo, chiamiamola gonna pantalone, pantagonna, come l'abbiamo chiamata finora, guardate qui, vedete, 59 euro in sotto, e, 65 euro in sopra, questo è un tessuto fermo, dobbiamo misurarlo, ben, 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 bene ragazze, perché, giustamente, bisogna, cercare di capire, come veste, io vi devo far vedere, per chi è interessata, perché qui abbiamo mille cose, con cui metterlo, ma ragazze, anche con questa casacca, ma anche con quelle, che vi ho fatto vedere, fucsia e nere prima, adesso vi faccio vedere, è l'ultimo leggings che abbiamo, Cate, se qualcuna te lo chiede, è una taglia 46, sai che però veste, fino a una bella 48, perché veste anche una taglia in più, il nostro Made in Brescia, 59 euro, che io adesso, come adesso, questo tipo di, l'abbiamo avuto inizio stagione, adesso sono gli ultimi, è proprio l'ultimo, ma, ragazze, io penso che un pantaleggings così, cioè, prendete anche un camicione del genere, vedete, è una meraviglia, lo andate ad applicare, lo mettete sotto, e il gioco avviene come per magia, guardate la meraviglia di questi, chiamiamoli caftani, ma sono delle maglie, camice, ha scontato, da 80 euro, a 69 euro, guardate, la meraviglia, vedete, con tutta questa elaborazione, qui parlo, di una quarta, però io ridico, anche qui, non ha misura, lo metto io, come lo può mettere, una taglia 54, 56, ve l'ho dimostrato prima, il nostro leggings made in Brescia, 59 euro, è l'ultimo, ed è una taglia 46, ho messo qui, il pantapalazzo, giusto per dire, volete fare così? Fatelo, perché è bellissimo, volete fare, questa, anche questo, sono quelle, sono quei poncio, kimono, che, non vi sto a dire la taglia, ragazze, perché lo vestiamo tutte, quindi, dalla 42, alla 54, e poi sotto ci mettete, il pantalone, che vi ho fatto vedere prima, bellissimo, da sotto, tagliere, potete mettere il pantapalazzo nero, potete mettere questo, largo, stupendo, che vi dicevo, in viscosa, 49, scusate il prezzo, 49 euro, e lo fate così, cioè, giusto per farvi vedere, un po' di diversivi, così come questo abito, questo, posso riassortirlo, e così, e in un'altra fantasia, rosa e nero, sempre prezzo outlet, scontato da 100 a 79 euro, 48, 50, 52, c'è anche, ne ho ancora uno bianco e nero, giusto, chiedete, 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 questa è una maglia strepitosa, è una quarta malandrina, quindi, andiamo a giocarsi, andiamo a guardarci dentro, questo è, praticamente, vedete qui, tutto in retina, guardate la meraviglia, con, il, vedete la finitura, in paillette, sotto è tutta maglina, di viscosa, stupenda, e meravigliosa, terza, quarta e quinta, 50, 52, 54, ma anche qui, se io la prendo, me la porto come copri costume, non sto a guardare, che è una quarta, la porto anch'io, che è una seconda, capite cosa intendo, quindi, potete fare, veramente, tutto quello, che più vi aggrada, anche col pantalone di prima, o anche con il nostro pantalone a sigaretta, o anche con il nostro tire blu, cioè, sapete che abbiamo di tutto, e di più, quindi, chi arrivasse nuova, nuova, in questo momento, non ha nient'altro di fare che, se avete voglia, visto che pioverà, magari, di guardare la vostra Gabri, qualche video, precedente, li vedete su YouTube, li vedete sul sito, www.gabriestabiliamentodonna.com, li vedete sulla nostra pagina, li vedete ovunque, voi vogliate, aprite un social, io spunto, come per incanto, intanto, vi faccio vedere questa, camicia casacca, guardate la manica, come si apre, perché è bella, perché è in plissé, vedete, quindi, è molto, molto, molto ampia, si tira, diventa fino a una taglia, 54, 56, questa è una quinta, ma guardate questo fiore, vedete che ha il plissé chiuso, e poi va ad aprirsi, e come diventa, bene, abbiamo terza, quarta e quinta, da 70 euro, scontata a 59, la vogliamo prendere, mettere col calzone bianco sotto, facciamolo, vogliamo prendere, il taglio al blu, nostro, made in Brescia, fantastico, questa è la misura grande, che vi dicevo, che è là, aspettate un attimo, non riesco a tenerla sulla brucia, perché è bella morbidosa, è una quarta, quindi una taglia 52, guardate la lavorazione, di questo pizzo, di questa manica, è quella che vi ho fatto vedere, prima nel piccolo, prendiamo il nostro calzone, made in Brescia, la mettiamo sotto, guardate la meraviglia, lì c'è un filo da togliere, stupenda, ci mettiamo sopra la giacca, vedete, e anche qui, avete un abbinamento bellissimo, ragazzi, io vi sto facendo vedere, di tutto e un po', volete metterla col jeans, la prendete, la mettete col jeans, adesso arriviamo al nostro, il prezzo, ve l'ho detto prima, non cambia, nemmeno se è più morbidosa, da 60 a 49, vi faccio vedere, questa maglia, che io trovo stupenda, sotto vedete che ha la fantasia, guardate addirittura, ha la fantasia dove arriva lo scollo, è pazzesco, comunque, sempre malandrina, da 60 a 49 euro, con la mezza manichina, vedete, sotto è doppiata, e sopra ha tutta, guardate, guardate la lavorazione, il pizzo, le frangette, una cosa, l'altra, quell'altra, quanto è bella questa maglia, terza, quarta e quinta, 50, 52, 54, ha anche il suo, volendo, portato a, tu non l'avevi ancora vista, vero Kate, che non avevi ancora avuto il tempo, quindi se volete, fate il gemello, e guardate la delizia, se no potete prendere, e questo sfuso, e questa sfusa, è incredibile, prezzo, ve lo ridico, 49 euro la maglia, e 59 euro, il cardigan, costava 70, dopodiché, ci divertiamo, ci dilettiamo, facciamo il completo giallo, facciamolo, certo che si, ma se facciamo vedere, tutte queste cose, mentre stai, hai appena partorito, devi aprire il telefono, e rispondere dal letto, dici che ce la farà, e beh, pian pianino, ce la farà, pian pianino, anche perché gli passa il tempo, se no che cosa sta lì a fare, tra una pocata, si ma tanto non è che si alza dal letto, e viene qua, devo solo fare un messaggio, devo solo fare un messaggio, dopo non sono io, io che rispondo da qua, quindi, 59 euro il prezzo, ma quanto è bello, anche questo comprito insieme, bene, volete metterci l'arancione, abbiamo anche il pantalone arancione, volete metterci il blu, ci mettete il blu, volete metterci il bianco, ci mettete il bianco, fate quello che volete, fate quello che volete, io ho preso, giusto perché sono delle canotte, tessuto manopesca, vestibilità ottima, e sono sempre alla ricerca di canotte, scontate da 50 a 39 euro, guardate qui, questa è una 54, questa è una 54, 52, rosa antico, blucina, e anche qui ragazze, le prendiamo, le mettiamo sotto, ai nostri tailleur, volete fare la casacca, che indosso io, c'è rosa antico, ve l'ho già fatta vedere, e diversamente, chi ha necessità di questa, più elegantina, più classica, perché ragazze, si può fare tutto, anche come dinamiche, 39 euro, la nostra giacca 99, abbiamo anche, e credo che sia l'ultima, la nostra casacca, la nostra canotta, 49 euro, non so se è riassortibile, la gonna tubino, che arriva fino a taglia 54, blu, bellissima, e la potete abbinare sotto a tutto, qui adesso, rispolveriamo il nostro beige, finiamo con un abito, che è delizioso, questo è, un abito, che da 90 euro, passa a 79 euro, è praticamente così, qui è, lo stesso tessuto del calzone, non so come definirlo, è una viscosa, semi elasticizzata, quindi, vestibilità ottima, vedete, questa è una terza, quindi 48, 50, 52, 54, perché c'è la misura, qui in vita, all'elastico, e poi sotto, portato così, guardate questo abito, per le nostre belle morbidose, dopodiché, se lo volete più corto, tirate via una balza, ragazze, e lo fate, prezzo, da 90 euro, a 79 euro, dimmi gioia, pantalone giallo, si può vedere aperto, sì, dipende che misura, vuoi, abbiamo tutte le misure, pantalone giallo, esattamente come, quello che indossavo ieri, verde, praticamente, questa è una 52, quindi ovviamente, posso farvi vedere, ecco, indossato, questa sarà una 40, è così, esatto, quello che vedi lì è bianco, quello che vedi qui è giallo, probabilmente è una nostra amica nuova, che è una bengalina, guardate, guardate, la vedete, sono le tre, ma adesso, facciamo per finire, allora, praticamente la lunghezza giusta, quasi nessuno deve accorciarlo, qualora voleste farlo, lo potete rigirare, date una stiratina, e avete il vostro risvoltino sul fondo, c'è anche la giacca uguale, quindi, il bello di questo, ma guarda ragazzi, che io di questo ho indossato la 42, questa bengalina è straordinaria, dà la morbidezza, Ale, mi spiace che non puoi indossare questi calzoni, anzi potresti, perché così, vedi anche tu, come stanno indosso, anche se sono femminili, li abbiamo bianchi, li abbiamo gialli, li abbiamo verde mela, li abbiamo blucina, li abbiamo turchesi, li abbiamo fucsia, li abbiamo neri, li abbiamo blu indaco, li abbiamo blu scuro, mancano delle taglie, ma arriveranno, li abbiamo arancioni, quindi ragazze, ne abbiamo, ok, questo è l'abito, vi stavo facendo vedere, che se siamo fortunati, a poter rispolverare ancora, qualche calzone di questo, che è, c'è qui la nostra amica, la nostra amica Lucia, col suo bimbo, adesso, dai, c'è qua Gabri, Aspettare un attimo alla luce, ah non riesci, vabbè, allora gli facciamo segno noi, dai, tanto avrà visto che siamo in video, gli faccio segno io, aspetta che glielo dico, aspetta un secondo, posso inquadrare, sì, per la privacy, facciamo finta di niente, sì, dai, sì, apri, così li facciamo salutare in diretta, dai, facciamo salutare in diretta, dai, mettiamoli qua, adesso ragazzi, li facciamo salutare in diretta, tanto, pronti, via, avanti una, arrangiate via, adesso mi nascondo, così non mi vedono, avanti una, avanti una, avanti due, buongiorno, ciao, bene, che piacere, vedete che io bacio anche, i signori uomini, buongiorno, 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 ciao carissima, tutto bene? Sì, accomodatevi sul fondo, che io finisco, buongiorno Lucia, ciao, ciao Cesaro, vedete quanti siamo, ciao Gabri, ciao Duratella, ciao Duratella, è nuova? Sì, tranquilli, c'è la coda, siete in diretta, va bene, vedete che qui, non si sta qui, come dico sempre, io a pettinare le bambole, ragazzi, questi pantaloni in crepe, che è lo stesso crepe della mia donna, vogliamo rispolverarli, e metterli sotto a questo poncio, che da 75 è passato a 59 euro, che è una delizia, non chiedetemi la taglia, perché io vi dico che non la taglia, anche se arrivano a 56, ok? Perché io lo indosso, mi sta come quello di prima, io li porto come copro di costume, quindi ci mettiamo sotto il nostro canzone, le abbiamo a sigaretta, forse abbiamo ancora qualcosa a palazzo, Ale qui mi dovrei dire tu lunedì che cosa hai, però 59, 59, io non potevo non farvelo vedere, se poi vogliamo mettere, uno degli ultimi, abbiamo sottoperto la porta, anche se si sente il rumore, va bene, tanto le nostre amiche ci vedono, un 50 e un 44, poi basta, un 50 e un 44, di questa, e lì, credo che ce n'è ancora una, ti dico qual è, perché tu non lo sai, ma io sì, non l'ho vista, una 42, quindi 42, 44 e 50 di questa, a 59 euro, facciamo l'abbinamento così, e ci mettiamo il, la sua giacca, 89 euro, 59 euro in franzone, avete visto che è una meraviglia, stampa Rani Italia 54, vogliamo prendere, questa deliziosa, e dico deliziosa, camicia, guardate qui, ne abbiamo solo due pezzi, però è particolare, facciamola vedere, manica larga, bello il tessuto, da 75 a 59 euro, prezzo outfit, il calzone 59 euro, in completo taglia 54, non è bello, poi sopra possiamo metterci, quassiasi altra cosa, ma anche la sua giacca, questo pantalone, non è quello della giacca, perché è una variante, leggermente diversa, ok, però possiamo fare così, possiamo fare così, e possiamo prendere, il nostro bellissimo, copritutto, a 119 euro, che è una delizia, morbidissimo, stupendo, che va dalla 40 alla 54, quindi potete fare tutto quello che volete, e soprattutto, dico soprattutto, la vedete lì da un po', che vi strapperà gli occhietti, bene, io dico, prendiamo questo calzone, o se avete il calzone, scuso in tre, forse li avete, li abbiamo a sigaretta, li abbiamo, credo a palazzo qualcosa, li abbiamo in bengalina, abbiamo il jeans, quello skinning, sempre beige, ci mettiamo sopra, questa camicia casatta, che io la trovo, meravigliosa, della malandrina, ah, è lo stesso, la fantasia di quello, a poncio piccino, allora, da 80 euro a 69, quindi qui, vestiamo una, 50, 50, 52, 54, il nostro gioiello per la vita, quello che indosso, 2,49, questo anche, vogliamo fare un abbinamento così, ragazze, io so già chi di voi, mi scriverà, su WhatsApp, appena giro pagina, bene, facciamo che, visto che è arrivata gente, non vi facciamo vedere, gli altri manichini, ma tanto abbiamo fatto vedere, di tanto, di tutto, di ogni, di più, e vi salutiamo qui, che dite, ci aggiorniamo, facciamo vedere, all'ultimo, come ero partita, che avevo un bacio, questo copri tutto, dicono che le auto, coprono un po', la tua voce, si, va bene, allora, chiudiamo la porta, vado io, posso, vado in retro, ragazze, andiamo, e ve la trovate, non siamo qui, esatto, in una via, ragazze, dove è sicuramente, battuta la strada, quindi adesso, siamo arrivate qui, d'altra parte, a negozio aperto, sono arrivata, vedi 3, 5, però capite che, io non vi racconto bugia, qui c'è sempre un via vai, dovete sempre sentire, via casa vostra, se avete la possibilità di passare, se no, casa vostra, sapete dov'è, su whatsapp, fate i numeri, ovviamente, in casa, si deve sempre essere educati, ma come negozio, anche sulle chat, soprattutto pazienti, sapete che qui, ci sono una testa e due mani, che rispondono, quindi, che dire, aspettate il vostro turno, noi cerchiamo di fare tutto il possibile, siamo molto veloci e dinamiche, le spedizioni vi arrivano il giorno successivo, a meno che ci sia di mezzo il weekend, vi faccio vedere come ero partita, e vi dico, ci vediamo martedì, con, credo, sarà verso le 14, quindi, credo e penso, con una bella notizia, e quindi, sono un po' ansiosa, ma sicuramente sarà così, arriverà la nostra geni, quindi, ci sarà una femminuzza in più, nella nostra, big 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 family, che dite ragazze, mi raccomando, pensatemi questo weekend, a me, e a Simo, e a tutte quante, ok? Bacioni, vi voglio bene, adesso più che mai ragazze, forza, coraggio, dovete esserci, baci, eccoci, eccoci,